Carissimi, tanti auguri di Buon Natale. La nostra è una grande comunità, ha sempre scritto la sua storia nella laboriosità, nell'accoglienza, nella solidarietà, ma anche nel coraggio di intraprendere orizzonti nuovi. Noi stiamo costruendo tutti insieme i nuovi orizzonti di sviluppo di questa città, ma abbiamo bisogno di essere coesi, di stare tutti uniti, come abbiamo fatto durante i lunghi periodi del Covid, come abbiamo fatto in tutte le situazioni più difficili della nostra storia. Ma abbiamo gente meravigliosa che ogni mattina si alza a fare il suo lavoro, a fare responsabilmente il suo dovere. Noi facciamo gli auguri a tutta la Molfetta Positiva e anche a quelli che guardano per terra. Noi invece ospichiamo di guardare sempre l'orizzonte, perché è nell'orizzonte, tra il mare e il cielo, che è la nostra storia. Tanti auguri cari concittadini. Buon Natale a tutti.